Stand gastronomici, musica, animazione per bambini, balli di gruppo ma anche una dimostrazione di una unità cinofila da salvataggio in mare con esercizi insieme ai bambini, la collaborazione col Vespa Club e un tour di 30 km nelle colline in mountain bike. Il quartiere di Centinarola Fano torna ad animarsi con la sagra della trippa e di fagioli dopo il format cambiato lo scorso anno puntando sui piatti tipici del territorio. Le quattro giornate dedicate all'evento sono state organizzate dall'associazione Viviamo Centinarola con il patrocinio della Proloco e del comune di Fano. Quest'anno abbiamo la grandissima novità del giovedì 8 giugno dove faremo una festa dedicata ai ragazzi e ai giovani con due DJ, DJ Michele Cenci e DJ M che allieteranno la serata per tutti i ragazzi o per gli appassionati di musica diciamo più giovanile. E poi torniamo alla tradizione il 9, il 10 e l'11 giugno con appuntamenti stand gastronomici della nostra famosissima trippa e dei nostri fagioli e non mancheranno musiche, esibizioni, ci saranno tutte le sere orchestre e tutti i giochi anche dedicati ai bambini. Oltre a tante esibizioni anche di scuole di danza o di ginnastica che si esibiranno nella nostra parco. Dove è possibile consultare il programma completo? Allora nella pagina Facebook di Viviamo Centinarola c'è il numero di telefono 347 37 360 81 per chiedere tutte le informazioni che vogliono chiedere e quindi vi aspettiamo dall'8 all'11 giugno nella zona di Centinarola al parco di Via Monfalcone. Assessore si riparte con gli eventi nei vari quartieri della città? Sì, devo dire che si imparte con una socialità diffusa che per noi è fondamentale, almeno personalmente ho sempre ritenuto che questa vitalità, questo modo di fare sempre un passo avanti verso una cultura della partecipazione, verso la costruzione di qualcosa di bello nella città è una cosa importante per tutti noi e che tutti i quartieri dall'anno scorso hanno iniziato a riprendere. Quest'anno continua una serie di eventi importanti perché si continuano a conoscere le persone, si continua a partecipare la città, a fare degli eventi che sono positivi per tutti, quindi ci si incontra, si discute, si dialoga. Quindi sono momenti molto importanti e devo fare complimenti a questi ragazzi di Centinarola che ci mettono tutta la voglia possibile per creare un evento che non è mai facile, creare questi momenti di aggregazione è sempre molto difficile, anzi quindi è bene che tutte le persone che vogliono diano supporto a questi ragazzi che si impegnano e credo che parte della crescita della città si debba proprio alle persone che si muovono e fanno qualcosa un passo in avanti. Quando le persone si ponono così anche noi amministratori siamo sensibilizzati a fare sempre meglio.